E' la primavera Sabato mattina ancora a scuola Allora ormai finita la mia mente va Una settimana intera oggi lo vedrò Io come mi manca giuro Tra un po' entriamo dentro il libro Senza lo scoderare troppo Altrimenti di l'appontato A qualsiasi discorso privato Prima però volevo Insieme a Cessimo dei ringraziamenti Perché tante sono le associazioni Alcune anche qui ben rappresentate Che ti hanno supportato Per questo inizio Sì, io le ringrazio E' un po' entriamo Qui ci sono state pubblicate Pubblicati loro Sono l'associazione dell'autore di robot Purtroppo stassi l'anno Tutto con un'altra città come scuola La AIT, la NIT, la AVIS Due mani tra E se c'è di più E abbiamo la professoressa della Suma Della NIT Se vuole possiamo spendere le due parole Giusto per Vi salvi il tuo errore Sì, io sono impreparata Però da quel po' con l'intera Oltretutto ho preso di vedere E sì, sì, è vero che c'è l'ex Quindi non posso parlare di malattia Con l'invito Però possiamo parlare di sottorelli Perché il dolore E' ciò che ci rende diversi In quel momento E' un momento in cui Stattopiniamo E' una notizia per noi E' una notizia per noi Che ci prima dell'aspettare Di essere quelli che realmente sanno Sì, a quel punto in cui abbiamo parlato E' proprio di un'esichienza E' una nuova connessione Che noi dobbiamo affrontare E io ti ho finita in questo percorso Come una perla Perché ti ho raffigurato E ti ho pensato Come questa ospita Che all'interno E' una notizia Perché in questo caso E' una cosa In particolare E quindi Per difendersi Cos'ha fatto E' un'intervante E' un'intervante E' un'intervante E' un'intervante E' un'intervante E' un'intervante Quello che vi ha iniziato E' un'intervante L'espoglierà Pensando a questo volume Che tu hai ricevuto E che puoi trasmettere Opportunamente Andare E questa pensura che ti hai attraverso, hai dimostrato che il dolore, la sofferenza bisogna sbagliare un po' più da mezzo e prenderne piccoli occhi ogni giorno per poter affrontarla con destabilizzazione, con forza, con coraggio e quello che noi diciamo che il pensiero del figlio che aiuta, aiuta anche in questo caso, così come senz'altro hanno aiutato te e tutte le persone che ti sono state vicino, non solo le famiglie, ma anche i medici che sappiamo, non so come ci sono, i medici significati, grafici, purtroppo a volte devono combattere con la loro città, con l'alimentazione più, devono combattere con poche incontri di famiglie, con una schienità che ha ogni giorno il potere e con una città che è proprio la sua città, la distruzione della vita, perché noi di quello ci studiamo, noi di quello ci studiamo, noi distruggiamo tutto ciò che c'è tutto dentro, ciò nella nostra città, ma anche nella nostra vita. Quindi questo coraggio che tu hai dato, che ti esegno molto, io sono curiosità da lei che ho letto questo testo, perché io ho letto questo testo, io ho letto questo testo, io ho letto questa prima volta, vedo, questo secondo me, questo stile tra i nostri, non solo gli amici, ma anche voi gli amici, anche che non solo gli amici, anche voi 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 gli am